Una grande prestazione, usciamo sconfitti però a testa altissima. Sì, abbiamo fatto una gara di grande spirito, di grande volontà, ce l'abbiamo messa tutta per cercare di arginare le offensive del Torino. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi, ripeto, è normale che una squadra di questo livello come il Torino ci possa mettere un po' le corde. Abbiamo sofferto e questo è lo spirito giusto che ci deve costradistinguere e portare per tutto il nostro campionato. Poi ci sono delle cose che dobbiamo migliorare e far meglio anche contro una squadra forte come il Torino. Un gran gol di Di Molfetta e un grande pizzignacco. Sì, grande gol. Sam e anche qualche intervento dei difensori ci hanno permesso di arrivare a fine gara ancora in parità. Peccato che forse nel momento in cui sembrava avessimo preso un po' più la gara sull'equilibrio, hanno trovato questo gran gol, meritato, chiaro, indubbiamente, però peccato. Che indicazioni in vista dell'esordio poi di domenica ha ricevuto dalla squadra oggi? Come stiamo? Mi sembra abbastanza bene dal punto di vista fisico. Mentalmente è ancora la nostra squadra che sa sacrificarsi, che sa vendere cara la pelle. Poi dobbiamo migliorare sicuramente. Non possiamo permetterci di difendere solo, di arretrare. Dobbiamo essere anche più bravi nel cercare di gestire un po' così il possesso palla. Qualcosa di positivo l'abbiamo fatto vedere. Dobbiamo farlo vedere anche nella metà campo e nell'area avversaria. Anche per i nuovi acquisti, ottime indicazioni. La Mantia ha lottato tantissimo. Sì, ha fatto bene lui, ha fatto bene sia Martella che Cepitelli dietro, felici quando è entrato. Bene, siamo contenti, ripeto, l'avevo già detto prima. Anche qualche ragazzo che non è entrato oggi, di quali nuovi, ci ha dato la sensazione di non aver sbagliato. Di non aver sbagliato soprattutto ragazzi professionisti. Poi sul campo è chiaro che dobbiamo mettercela tutta e portare a casa risultati positivi.